Un'occhiata alla fiera mondiale alla vigilia dell'inaugurazione. Sull'arca, dove due anni orsono si apriva una desolata palude, circa 100 grandi padiglioni, comprendenti quelli di 23 nazioni estere, sono pronti ad aprire i loro battenti. Nel cosiddetto tempio della religione è stato depositato uno dei più preziosi ex voto del mondo. La corona, opera di orefici spagnoli della fine del Cinquecento, dedicata a Nostra Signora delle Ande, proveniente dal santuario di Popayani in Colombia. 453 smeraldi, fra i quali la famosa gemma di 45 carati degli Incas e di Atahualpa, costellano questo magnifico gioiello, assicurato per la somma di 4 milioni e mezzo di dollari. Tra gli edifici più caratteristici è la futuristica torre di cristallo, nel cui interno si può vedere come la scienza moderna ha saputo tramutare il vetro in fibre tessili, con le quali si possono fabbricare abiti e tendaggi a prova di fuoco, e dove specchi deformanti giocano tiri burloni ai visitatori. Grazie a tutti.